Il .NET Campus è una grande iniziativa soprattutto per i giovani. Quali sono i punti fondamentali di questa giornata? Allora, Avanad è molto contenta di sponsorizzare anche quest'anno il .NET Campus in quanto rappresenta proprio i nostri punti focali come azienda che sono i giovani e le nuove tecnologie in ambiente Microsoft. Giovani perché la nostra è un'azienda giovane, l'età media è circa 30 anni, quindi sono tutti molto giovani e tecnologia perché ci occupiamo in particolare di focalizzarci sulle tecnologie Microsoft più innovative. Per cui per noi è un'occasione veramente unica per entrare in contatto con tanti ragazzi appassionati del mondo Microsoft e che hanno voglia magari di trasformarlo anche in un percorso di carriera. Siamo qui anche per conoscere persone e per offrire delle opportunità lavorative. In particolare, ad esempio, l'anno scorso abbiamo conosciuto dei ragazzi che abbiamo poi assunto in azienda e adesso stanno facendo un percorso consulenziale da noi. Anche quest'anno abbiamo delle interessanti opportunità di stage, quindi consiglio a tutti di visitare il nostro sito www.avanad-jobs.com e candidarsi alle nostre posizioni, venire qua a conoscerci oggi oppure a contattarci attraverso il nostro sito. Quali novità porta Avanad quest'anno al NET Campus? Quest'anno abbiamo pensato di fare un intervento focalizzato sulle donne perché oltre naturalmente a far conoscere Avanad ci interessava far capire che cosa vuol dire essere donna in Avanad. Fare un lavoro dove in genere la percentuale è più alta, è chiaramente quella degli uomini e quindi abbiamo voluto evidenziare le opportunità di carriera per le donne, di cui ho fatto da testimonial, però abbiamo parlato naturalmente di tante altre testimonial che ci sono appunto in Avanad, quindi opportunità di carriera. Abbiamo parlato di iniziative che abbiamo cominciato a portare avanti in modo concreto a partire dal 2010, diverse iniziative tipo un'iniziativa di sponsorship per talenti donne per accompagnarli nella carriera manageriale piuttosto che iniziative come il Women IT Forum invece è rivolto a giovani neolaureate, raccolte 24 neolaureate praticamente da varie country in Europa che hanno avuto l'occasione di partecipare in una giornata di forum che si è svolta l'anno scorso a un incontro con general manager di Avanad, di Microsoft, di Accenture e quindi confrontarsi con queste donne di alto livello per cercare di attirare più donne in azienda. Abbiamo il 20.3% di donne, è in crescita perché siamo partite da 17 circa, vorremmo verne sempre di più, quindi il mio obiettivo oggi era quello naturalmente di riuscire a portare più donne da noi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!